Bologna-Milan si recupera a febbraio perché il calendario è intasato come una tazza di un gabinetto. La Roma è inconsistente e inesistente, Tavaresci invece è un fenomeno e la Juventus, se vuole, fa vedere un gioco. Gli argomenti della nona giornata di Serie A, dallo spettacolare derby d'Italia, 4-4, 1-0 Inter, 2-1 Juventus, 3-2, 4-2 per i nero-azzurri con Dunfris che dopo il gol evidentemente si monta la testa e riesce a combinarne di ogni. La Juventus ci crede, il Diz risponde alle critiche, così doppietta e finisce 4-4. Una partita spettacolare, Caressa dice non fatemi vedere uno 0-0 per favore. E 0-0 non è stato, grande prestazione tra le due squadre. Gli appassionati di calcio finalmente hanno visto due grandi del nostro campionato giocare a viso aperto in un confronto diretto. E invece gli interisti e gli juventini forse oggi sono un po' meno rancorosi l'un verso l'altro, perché hanno regalato una grossa vetrina del calcio italiano. Il Diz fenomenale lo abbiamo detto, Zinischi i tuoi rigori, Mkhitaryan tira fuori la zampata nel momento del leone e la formazione di Motta dice Signori, noi se vogliamo possiamo giocare, è per scelta nostra che non lo facciamo al meglio delle nostre possibilità, ma comunque noi ci siamo e ci saremo fino al termine. Bologna-Milan, perché non si gioca il sindaco e le autorità dicono beh il rischio d'alluvione, l'area intorno allo stadio, è difficile far entrare e soprattutto far defluire la gente, è un qualcosa di difficile da affrontare per noi dal punto di vista organizzativo. No, a porte chiuse non sarebbe giusto, parte dell'incasso va devoluto in modo anche generoso per combattere questi fenomeni a livello di maltempo, eppure però non si riesce a trovare una data. Champions League, Europa League, Coppa Italia, partiamo all'elenco un po' come farebbe Matteo Salvini, Supercoppa Italiana, Supercoppa Europea, tutte le competizioni che vi vengono in mente sono state predisposte dalla UEFA che ha appesantito il calendario, noi no, non la facciamo la riforma del campionato dalle 20 alle 18 squadre. Questa premierebbe soprattutto il merito sportivo e soprattutto con le 18, con le 16 squadre, come io personalmente sostengo avremmo una crescita del livello medio del nostro campionato. Però, a parte questi piccoli particolari, no, non si può spostare Verona-Milan nella seconda settimana di Coppa Italia degli ottavi di finale perché sarebbe uno spostamento a catena di altre partite del campionato, sarebbe tutto difficoltoso e vabbè, o a Natale o a Febbraio, vediamo un po' cosa decidono. Sulla Roma nemmeno ne devo parlare perché ha detto tutto da sola, Cristante vorticava su se stesso, girava, turnicati, dicevano Aldo, Giovanni e Giacomo, inconsistente, quasi nulla. L'unica zampata è quella di Coné, qualche tiro sparso qua e là, qualche azione tentata, provata, ma Bove aveva una facilità immensa. A un certo punto, secondo me, si è girato e ha detto, ma davvero mi fate passare con questa facilità all'interno dell'area di rigore? Ok, ad lì, signore del centro campo. Ken in modo rapace all'interno dell'area, senza nemmeno troppa pressione sul primo gol e con grande fiuto sul secondo. Fiorentina dalle stelle, l'unico che non ha segnato, chiaramente, è Gosens, perché chi ce l'ha al fantacalcio Robin Gosens? Il sottoscritto, ha segnato in conferenze league, ma su cinque gol della Fiorentina manco un assist e non ne parliamo nemmeno. Lui invece, il portoghese, fa quello che vuole, lì a sinistra, corre, gioca, salta, balla, va all'uno contro uno, punta anche il fisico per tenere nel contrasto con il proprio diretto avversario, ha un piede educato. Signore e signori, si sta palesando in Serie A un nuovo fenomeno. Like, iscrizione, basso e chiudo.